ben tornati a tutti o benvenuti questa terza puntata del ciclo di catechesi la sana dottrina cattolica che a quanto sembra sta riscuotendo un discreto riscontro perché è molto importante per tutti abbracciarsi e radicarsi in essa nella prima puntata ho ricordato insomma che noi figli di dio non dobbiamo andare a cercare cose strane o cose nuove a mio avviso cose particolari insomma suggestioni abbiamo tantissime bellezze da riscoprire la nostra fede è una fede bellissima la vita cristiana è una vita non facile d'accordo anche se semplice ma pur non essendo facile né come dire agevole secondo i canoni del mondo è una vita meravigliosa quindi vivere in comunione con dio vivere in comunione con la chiesa con il prossimo attingere tutti i tesori non soltanto di dottrina evidentemente ma anche di santità di grazia parleremo se dio vuole in questi in questo ciclo sarà lungo di catechesi parleremo di sacramenti stiamo già parlando di sacramentali parleremo se vogliamo insomma di preghiera il patrimonio della dottrina cattolica è veramente una miniera d'oro inesaurita miniera è una quindi si possono certamente estrarle in continuazioni filoni 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 sempre da quella stessa miniera un'altra immagine utile può essere quella della sorgente la sorgente uno attinge 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 non la esaurisce mai ma la sorgente è sempre una ci sono delle sorgenti molto buone di acqua sono un amante delle buone acque minerali ogni sorgente per chi ne conosce c'ha un'acqua è un'acqua insomma c'ha delle qualità intrinseche proprio ognuno di noi ha i suoi gusti insomma per chi li può avere no e quindi è certo che vengono prodotti milioni di litri di acqua da una sorgente forse miliardi forse trilioni ma la sorgente è sempre quella ecco quindi stiamo in questo in questo mare qualcun altro ha descritto la dottrina cattolica veramente come un mare pacifico e i figli di di dovrebbero essere come come i pesci d'accordo che dentro questo mare sguizzano nuotano ecco passeggiano stanno sereni ecco sapete che in fondo al mare si sta sempre tranquilli perché le tempeste i sommovimenti si apertono superficie chi sta sotto proprio quello che accade sopra ed ecco perché essere radicati con la sana dottrina cattolica aiuta anche a passare come dire oltre sommovimenti sommosse questioni problemi momenti difficili chiacchiere polemiche e quando stiamo dentro la sana dottrina cattolica noi stiamo come dire proprio nel cuore stesso della chiesa della chiesa della sposa di cristo del corpo mistico di cristo della chiesa che ha dato vita d'accordo origine si può dire realmente ai santi ai dottori ai martiri alle vergini che della chiesa rappresentano fin d'ora la quintessenza ma capite che quando la chiesa comparirà questo è un altro tema fondamentale insomma quando la chiesa comparirà nella sua totale bellezza cioè questo accadrà alla fine della storia quando il numero degli eletti sarà completo saremo tutti saremo tutti santi chi è stato martire è stato martire chi è stato vergine è stato vergine chi è stato dottore è stato dottore chi è stato santo è stato santo ma come dice il libro dell'apocalisse in essa non entra nulla di impuro assolutamente nulla di macchiato la bellezza della sana dottrina cattolica ed è quello che fa di questo patrimonio un bene inestimabile è che la sana dottrina cattolica è pura non c'è macchia in essa non c'è non c'è macchia e è piena è completa è totale abbiamo visto la volta scorsa no tutto quello che accade abbiamo introdotto nel corso della storia in ordine alla esplicitazione del dogma per esempio no non è altro che appunto una esplicitazione il grande vincenzo daleren spiegava che lo sviluppo della dottrina non è alterazione o cambiamento ma è come un bambino piccolo che diventa grande io adesso ho 50 anni quasi se si vedono le foto di quando ero piccolino si vede abbastanza bene che sono io certo non sono adesso come allora è evidente però il dna è lo stesso i tratti somatici sono gli stessi il taglio degli occhi è lo stesso i capelli sono molto di meno e tra quei pochi superstiti molti hanno perso il colore originale insomma no ecco qualche acciacchetto è arrivato insomma evidentemente il patrimonio il bagaglio che mi porto dietro a 50 anni non è lo stesso penso che ci avevo a tre anni a tre anni sapevo parlare ma non sapevo neanche leggere insomma adesso non vogliamo insomma dire insomma no però c'è qualche piccola differenza ma sono sempre io quindi cioè non posso io trasformarmi in un'altra persona le follie che vogliono fare gli uomini contemporanei l'ha il timbro della mia voce sempre la stessa d'accordo il mio dna è sempre lo stesso le impronte digitali sono sempre le stesse d'accordo soltanto per dirne qualcuno il temperamento mio la mia personalità non solo che non deve trasformarsi ma deve rimanere quella che è perché la personalità e il temperamento sono doni che il signore ci ha dato fanno parte della nostra individualità unica e ripetibile d'accordo ecco questo vuol dire sviluppo bene abbiamo rifatto perché ogni tanto dobbiamo io credo che la bellezza di queste nostre conversazioni è proprio veramente andare a a respirare a pieni polmoni in quello che c'è di più bello io cercherò come ho sempre fatto ho sempre detto non voglio parlare di me stesso ma l'ho detto ai miei fedeli lo dico a voi cioè tranquillamente per quanto riguarda la mia coscienza quello che ho cercato di fare da sacerdote e come mi sono preparato a calzare cerdozio cioè io ho sempre cercato di curare la fedeltà alla dottrina della chiesa sempre ho cercato di apprenderla al meglio e ho cercato di trasmetterla al meglio non so se ci sono riuscito ma io posso dire che di mio cioè di mie opinioni personali ancora che è stata la mia predicazione non ci ho mai messo niente quando qualche volta dicevo guardate che questa è l'ho sempre specificato oppure quando qualche volta l'argomento classico l'abbiamo anche accennato la volta scorsa no discorso del limbo io ci credo che esiste il limbo non ho nessuna difficoltà a dirlo d'accordo perché si può dire ma non essendo come il purgatorio il paradiso e l'inferno un dogma di fede devo dire se qualcuno non ci crede non va contro la dottrina della chiesa non può essere tacciato né come eretico né come nemmeno uno che che professa un errore perché l'esistenza di questo luogo sui generis che pure è stata come dire più che insinuata da qualche testo magisteriale non ha mai avuto una forma una esplicitazione definitiva e quindi se qualcuno dovesse non crederci si ritrova con alcuni problemi teologici in più da risolvere ma non può essere tacciato come eretico d'accordo questa questa dovrebbe mantenere questo questo a mio avviso questa questa forma di di correttezza e ritengo che ogni sacerdoto è un ministro noi siamo ministri questo vale per tutti è cioè questo vale dall'ultimo sacerdoti fino al pontefice sommo che il servo dei servi di dio d'accordo e che al servizio come l'ultimo dei sacerdoti di questo noi non portiamo avanti nostre idee noi cerchiamo di portare avanti quello che cristo ci ha insegnato e che la santa chiesa ci propone a credere come diciamo ogni mattina spero tutti nell'atto di fede non possiamo fare altro perché il ministro minister è appunto il servo di una cosa che non è sua non ha la possibilità di somministrare cose proprie non lo può fare è una carognata d'accordo è un abuso d'accordo non si può capite perché noi stiamo al servizio di qualche cosa che non è nostro e il bene delle anime a cui fine tende fondamentalmente la dottrina e la vita della chiesa è un interesse ancora più grande che l'interesse sommo che sta a cuore nostro signore gesù cristo e che solo nutrendole ai sani pascoli delle celesti paterie potranno raggiungere quello che è il loro fine cioè la salvezza delle anime bene allora stiamo concludendo il discorso sul battesimo abbiamo iniziato la volta scorsa ecco io volevo magari concluderlo oggi e mi venia in mente stamattina che forse sarebbe non suggeribile subito dopo il battesimo trattare al volo almeno perché poi volevo subito aprire una parentesi su qualche comandamento per 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 non appiattire insomma queste nostre conversazioni sempre sulle stesse tematiche no quindi qui noi navighiamo sul mare aperto d'accordo quindi ci sarà certamente un ordine e una coerenza insomma no ecco però non vorrei essere troppo troppo rigido e troppo schematico quindi perché se iniziamo a parlare soltanto dei sagramenti stiamo avanti due tre mesi solo su questi insomma no e sono altri aspetti insomma molto 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 importanti molto urgenti molto attuali molto interessanti che altro dire del battesimo il battesimo è la vocazione è la nostra vocazione fondamentale cioè il battesimo è dono e al tempo stesso è vocazione in forza del battesimo che noi siamo tutti attenzione tutti che amati alla santità 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 non santità 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 d'accordo chi è stata ammessa ieri ci dovrebbe già essere forse no lo meglio fatto ieri sera online ieri sera san paolo diceva delle cose molto molto semplici dice fornicazione così cominciava a toccare qualche argomento caliente impurità avidità ma non solo volgarità trivialità queste non sono cose che si addicono ai santi proprio così dice non sono cose che si addicono ai santi anzi sono cose su cui incombe l'ira di dio basta prendere lettura della messa di ieri e sto citando testualmente non le sto dicendo io queste cose cioè agli albori della chiesa era assolutamente ovvio cioè san paolo chiama i destinatari delle sue lettere i santi che sono nella chiesa di x y z se tu eri battezzato eri santo non perché eri già santo canonizzato come facciamo oggi ma l'essere rivestito di cristo della sua grazia ti abilita alla santità cioè chi non diventa santo attenzione non è che non ci è diventato perché dio non vuole nelle lettere di san pietro e di san paolo si legge lo dico in latino ec voluntas dei santificatio vestra questa è la volontà di dio la vostra santificazione d'accordo qual è la prima cosa che ci ha insegnato a chiedere gesù nel padre nostro sia santificato il tuo nome non è che il nome di dio diventa santo ma sia santificato il tuo nome l'ho detto tante volte in tante comedie significa sia santificato il tuo nome in me cioè divento santo io come nell'antico testamento siate santi perché io sono santo deuteronomio o esero adesso non mi ricordo uno dei due siate santi perché io sono santo siate santi come io sono santo chi non diventa santo non è per volontà di dio non è che dio dice allora questi li voglio a san francesco volevo santo invece questa è una mezza cartuccia no questo santo lasciamolo tra i tre fedeli comuni no no cioè se quello rimarrà una persona che ha mutilato non dipende da da dio dipende dal fatto che il dono che ricevuto nel battesimo sarei messo sotto i piedi ora voi capite no il battesimo noi lo riceviamo come regalo l'abbiamo visto la volta scorsa e quindi non non ripeto no quel regalo però che certamente poi frutti che produrrà e qui si prendono delle grosse responsabilità soprattutto i genitori cioè oggi sono tantissime realtà e pastoralmente è veramente un problema perché tu il battesimo io non sono mai stato per queste posizioni estreme tu dici ma tu c'hai dei genitori che non gliene proprio poi importati meno questo accade con tutti quanti sagramenti sono state ci sono anche in italia insomma non faccio nomi e cognomi ma luoghi realtà dove si assumono una linea estrema o tu ti fai dieci incontri di preparazione al battesimo d'accordo e dimostri e oppure io il fio non te lo battezzo io pur comprendendo le motivazioni che portano queste scelte drastiche perché la sezione la situazione oggi è veramente drammatica però privare una creatura innocente di un sacramento così importante che la comunione la cresima stessa cosa come si fa ma c'è una situazione veramente penosa in giro e se le famiglie non fanno ricominciano a fare quello che devono fare non c'è nessuna speranza d'accordo non c'è speranza per per i giovani e questo lo dico da sacerdote io ho lavorato tanto con con i giovani quel quei pochi ragni dal buco che sono chiesto riuscito a cavare 90 volte su 100 provenivano da realtà in cui o la famiglia già c'era oppure in maniera concomitante con il cammino dell'iniziazione cristiana dei ragazzi hanno almeno ricominciato a farci perché senza questo supporto è impossibile d'accordo è impossibile non si può e quindi dono ricevuto responsabilità di chi lo ha chiesto di cominciarci a educare alla fede certo arriva un momento in cui tutti quanti noi e quando non siamo proprio ebedi cioè anche se siamo ancora ragazzini quindi non mancare ancora persone mature però sapete insomma gli ebrei anche gesù a 12 anni c'era il bar mitzvah il figlio della legge cioè a 7 8 anni comincia la capacità di discernere il bene dal male ecco perché quel periodo la chiesa fa fare la prima confessione no quindi sì certamente non c'è la maturità di una persona adulta però qualche cosa ci raccapezzi quindi il battesimo ha bisogno di essere interiorizzato e la confermazione uno dei fini per questo è restituita la la confermazione che è importante e che è il culmine dell'iniziazione cristiana qual è che tu ratifichi in prima persona ecco perché le prime cose che si fanno durante la cresima è la rinnovazione delle promesse battesimali la triplice rinuncia e la triplice professione di fede che quando arriva lo spirito santo nel rituale della della cresima ha una enfatizzazione perché la cresima è proprio l'effusione dello spirito santo che corrobora ulteriormente la grazia ricevuta nel battesimo ti imprime il carattere di soldato di cristo e ti dà la capacità non solo di vivere la fede quello ce l'hai già per il battesimo ma di testimoniarla senza vergogna con la vita e con la parola fino addirittura all'effusione del sangue il sacramento della cresima è questo è capite cioè e voi immaginate oggi che cosa c'è che il sacramento della cresima nel 95 per cento e mi tengo basso e lo dico con dolore dei casi è il cosiddetto sacramento dell'addio cioè gente che fa la cresima sapendo benissimo che dal giorno dopo non solo che altro che la testimonianza ma chiuderemo punti con la chiesa cattolica allora perché è importante radicare la chiamata la santità nel battesimo questo è fondamentale questo qui facciamo subito alcuni esempi allora tutti quanti vorremmo avere sacerdoti santi giusto mi sembra una legittima aspettativa ma vediamo un pochino la santità del sacerdozio da che cosa dipende secondo noi dalle mani in testa che mette il vescovo quando ordina un battezzato di sesso maschile sacerdote o da qualcos'altro cioè il sacramento dell'ordine o anche della pienezza dell'ordine episcopato conferisce all'ordinato la santità la risposta è no no per cui magari è normale che uno si scandalizza se un sacerdote diciamo non appare santo poi speriamo sempre che altro è quello che appare a causa di tante cose altro è quello che è ma in realtà non ci sta niente da scandalizzarsi perché perché se quel sacerdote già prima di diventare sacerdote non ha interiorizzato il fatto che la vita cristiana è vita di santità e questa santità è radicata nel battesimo d'accordo quello non diventerà un santo sacerdote a meno che perché capite no nella nostra vita noi abbiamo in ogni momento la possibilità della conversione conversione seria ed è per questo che esiste un sacramento stiamo facendo un pochino una panoramica che è il sacramento della penitenza che è un sacramento formidabile se ben vissuto per riprendere le file del discorso abbandonato d'accordo ma il sacramento della penitenza quando è ben cerebrato abbiamo modo di parlarne comporta un taglio con il peccato è il sacramento della penitenza comporta un taglio con il peccato quantomeno dal punto di vista e questo Dio lo sa e se sentite anche le mie antiche catechesi hanno fatto tantissimi sulla confessione almeno nel proposito fermo non è detto che tu ce la farai questo noi non possiamo farlo non possiamo promettere come dice l'atto di dolore non dice prometto di non offenderti mai più ma propongo quello si è cioè e questo Dio lo sa quando deve confessare d'accordo cioè nel mio cuore ci deve essere la volontà di tagliare san paolo di ieri diceva niente fornicazione se una coppietta di giovanotti a rapporti prematrimoniali non si può andare a confessare senza un pentimento sincero pentimento sincero vuol dire che i rapporti prematrimoniali sono peccato mortale ieri oggi e sempre tolgono la grazia di Dio non si possono vivere punto per cui se io vivo così io non sto in grazia di Dio è inutile poi da prendere il nostro Signore in giro andando a confessare una cosa che so con certezza che certamente la rifarò la confessione tanto mi sono scaldato nel passato non può diventare un modo per irridere il nostro Signore per prenderlo in giro per calpestare il sangue di Cristo per mortificare abusare della divina misericordia perché Dio perdona qualunque peccato anche di peggio della fornicazione che non è il peggio peccato che possa esserci ma chi è pentito a chi è pentito allora ancora vi ho parlato del sacerdote stiamo parlando della vocazione alla santità propria del battesimo una coppia una famiglia mie catechesi del passato che hanno associato un pochino un pochettino omelie d'accordo la madonna fatima diceva che non tutti i matrimoni piacciono a Dio è riportato nelle nei libri basta comprarvi memorie di sua lucia primo e secondo volume si vale a leggere quello che racconta la piccola giacinta di Fatima ora santa e canonizzata d'accordo riferendo di apparizioni approvate dalla chiesa perché alcuni matrimoni cioè non sono graditi a Dio quali sono i matrimoni graditi a Dio così come quali sono i sacerdoti graditi a Dio così come quali sono gli uomini e le donne gradite a Dio perché non bisogna diventare per forza sacerdoti o sposarsi e nemmeno diventare per forza suore monaci o frati che quella è una forma particolare di santificazione in forza del battesimo c'è già tutto non tutti hanno la vocazione al matrimonio non tutti hanno la vocazione la vita consacrata e non tutti hanno la vocazione al sacerdoti arcuri quel ragazzino che è stato beatificato da poco non ha fatto in tempo a prendere uno stato di vita pier giorgio frassati la stessa cosa ma san giuseppe moscati ha fatto il medico santo il beato contardo ferrini non è ancora santo ma già beato mio ex collega era professore universitario e magistrato e santa caterina da siena che che se ne pensi non era una suora era una mantellata era una terziaria domenicana santa gemma galgani non era una suora era una terziaria passionista santa rosa da lima non era una suora e credo che fosse anche una terziaria o francescana o domenicana e la beata alexandrina maria da da costa non so se stata canonizzata è stata pure una vita dentro casa alcune mistiche non ancora canonizzate e qui spero un resto a me molto care come chi non ce lo sa luisa piccarreta e maria valtorta non sono state sposate e non erano suora e il nostro signore voleva che non fossero sposate che non fossero suore perché per quello che dovevano fare non potevano né avere la responsabilità della famiglia e né stare chiuse dentro le regole strette di una congregazione religiosa ma non è che sono vite a metà e attenzione cioè una persona che non si sposa non deve concepirsi come una sorta di vita mancata di vita fallita perché non mi sono né sposato né sono andati in convento in monastero attenzione a questa cosa qui è non è così perché se io scelgo la santità il non avere la famiglia e il non avere come dire le distrettezze come necessarie di una vita monastica o religiosa e io ho tutto il tempo a disposizione e posso dedicarmi tanto alla priera alle opere di apostolato alla alle opere di volontariato alle missioni posso impegnarmi nell'apostolato dei mezzi di comunicazione sociale a voglia te cioè tolto il te posso santificare il lavoro e santificarmi nel lavoro non voglio fare pubblicità a nessuno e non prendo le parti di nessuno ma sappiate insomma perché non si tratti di cose nella chiesa esiste una realtà io non ne faccio parte non voglio fare pubblicità ma lo dico per la formazione di tutti che è l'opus dei non pensate che l'opus dei sia una cosa insomma è una cosa normalissima è una realtà ecclesiale ma nell'opus dei i membri come dire proprio legati all'opus dei sapete chi sono sono uomini e donne non sposate i cosiddetti numerari e che vanno la promessa di castità a vita perché perché loro scelgono di diventare santi coerentemente con la vocazione battesimale come attraverso il carisma della secolarità cioè santificando il lavoro e santificandosi nel lavoro questo è un patrimonio ripeto io non voglio fare pubblicità ma lavorare santamente lavorare da cristiano lavorare non contro voglia anche il lavoro più umila guardiamo guardiamo san giuseppe guardiamo gesù che lavora per 30 anni di vita a nazareth è una cosa degnissima d'accordo molti che hanno fatto una famiglia in maniera frettolosa sarebbe stato meglio che se lo fossero stati a casa loro perché se tu non sei buono non c'è la vocazione a vivere una vita di donazione di sacrificio accanto a una persona che sempre la stessa e a donarti nel far concepire e allevare far crescere i figli non tutti possono fare i sacerdoti diocesani d'accordo io per quanto mi riguarda secondo me meno di tutti però se il nostro signore non è d'accordo ma ci vogliono degli attributi delle capacità delle qualità che o ce l'hai nascoste o evidenti o le acquisisci oppure non lo puoi fare così come non tutti reggono la vita di convento la vita di monastero quindi il fondamento della nostra santità è il battesimo se tu prendi sul serio il battesimo allora se diventi prete sarei un santo prete se diventi frate sarei un santo frate una santa suora un santo monaco una santa monaca un santo marito una santa moglie un santo padre una santa madre o un santo cristiano una santa cristiana che farai bene nel mondo quello che dio vuole che tu faccia questo è fondamentale questo qui è importantissimo è importantissimo pensiamo che un san luigi maria monfort ha insegnato la vera devozione alla madonna e questo a mio avviso è un patrimonio come dire non che non andrebbe relegato io personalmente prego se posso fare questa preghiera non è peccato farlo che san luigi maria monfort sia dichiarato dottore della chiesa d'accordo ovviamente non non è compito mio farlo ho la libertà di auspicarlo insomma e di desiderarlo perché lui ha intuito che attenzione la vera devozione alla madonna cioè unirti alla madonna e al suo prodigio di santità in maniera strettissima che cosa comporterà comporterà che tu diventerai santo ma diventare santo e lui lo spiega e prendere sul serio la vocazione battesimale dice la perfetta la perfetta la perfetta consacrazione a maria è una perfetta rinnovazione delle promesse battesimali perché sta tutto lì capito quindi è lì che dobbiamo andare ad attingere ora così ci raccordiamo come vive il nostro battesimo e la nostra cresima bene ho capito che non è il battesimo e la vocazione alla santità la cresima questo dono che ho ricevuto perché ricordiamo noi riceviamo due doni dai genitori che hanno ancora la buona creanza di battezzare i bambini il dono della vita che l'hai ricevuto senza chiederlo d'accordo e il dono della fede che è ancora più grande perché è il dono della vita eterna che come il dono della vita è ricevuto senza chiederlo ora la vita poi tu dovrai viverla perché la vita tu l'hai ricevuta ma poi è fidata a te e tu vivrai la vita che scegli di vivere perché la vita mano mano che cresciamo la vita così come la nostra anima è fidata a noi e nessuno può fare questo lavoro al posto nostro così la fede dovrai viverla scegliere se viverla fai la cresima ma la cresima non può diventare il sacramento dell'addio bene fatta la cresima che facciamo a lì comincia tutto quanto vuoi diventare santo vuoi diventare santo allora che cosa dice gesù nel vangelo se vuoi entrare nella 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 vita osserva i comandamenti punto ma io non faccio quello che voglio dice san paolo ma faccio il male che non voglio o certo perché c'è il peccato originale l'ho visto la volta scorsa il battesimo ti toglie il peccato ma non le conseguenze e come facciamo a gestire le conseguenze in modo tale che i comandamenti li possa osservare mantenendo e alimentando in una vita della grazia come attraverso la ricezione la celebrazione dei sacramenti che si possono ripetere per cui guardate ci fermeremo perché se una persona imparasse a vivere bene i sacramenti della penitenza dell'eucaristia non può non diventare santo è impossibile è impossibile perché i sacramenti non sono non sono uno scherzo è impossibile questa è la prima cosa la seconda cosa però è la preghiera quindi noi adesso il resto che perché cioè la sana dottrina cattolica serve a mandarci in paradiso d'accordo Dio vuole che noi andiamo in paradiso d'accordo non è che ci sta ma è vorrebbe anche possibilmente vorrebbe anche possibilmente che un piccolo paradiso cominciasse sulla terra perché questo era il progetto originario perché Adamo fu collocato nel paradiso terrestre la sofferenza la sofferenza l'angoscia il dolore la tribolazione non sono voluti da Dio direttamente questi sono incidenti e sono strumenti che dobbiamo imparare a utilizzare per la nostra santificazione ma anche questo non lo faremo se non abbiamo l'aiuto del cielo per cui una persona santa non ci diventa voglia dire padre io io gli voglio tanto bene anche tutte quante le mie pecorelle che sono diciamo così lontane dal recinto sacro d'accordo quindi sono evidentemente parte della chiesa ma non membre non rientrano tra i cosiddetti praticanti io gli voglio bene d'accordo ma dire io mi faccio la preghiera e non vado in chiesa come dire lo puoi dire lo puoi fare ma se tu in chiesa non ci vai sta tranquillo che santo non ci sei non è vero il contrario perché non basta andare in chiesa per diventare santo perché bisogna vedere come vai in chiesa come vivi i sacramenti come vivi la messa come vivi la comunione come celebri e come vivi la confessione d'accordo questa è la base è proprio fondamentale proprio è l'abc così come non basta pregare bisogna vedere come preghi cosa preghi com'è la tua preghiera limitata le preghiere vocali quanto preghi e a che orizzonti come è la tua preghiera sulla preghiera vocale aveva fatto la meditazione sai che cos'è cosa fai davanti a Gesù che resti hai un rapporto personale con lui sai cos'è la preghiera profonda sai che il fine della preghiera raggiungere l'unione con Dio è creare fin da questo mondo un legame affettivo profondissimo con Dio ecco quindi ma tutto questo è tutto quanto radicato nel battesimo quindi la vita battesimale si esplica allora uno la nostra formazione non deve mai cessare perché la fede non è una cosa che viene data una volta per tutte ma la fede è qualcosa che si alimenta in continuazione cioè voi mi sentite parlare in questo modo ma penso che insomma non siate così sciocchi no? cioè parlare in questo modo presuppone come dire una preparazione remota continua no? cioè capite? quindi cioè io tutti i giorni alimento la mia anima d'accordo? in continuazione perché Dio non lo conosceremo mai perfettamente d'accordo? sulle cose belle della nostra fede occorre tornare 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 quindi formazione perpego vita di grazia vita di grazia quindi confessione messa comunione e preghiera quando si dice vita di grazia dicono essere queste tre cose e poi e poi osservanza dei comandamenti si parte dall'osservanza dei comandamenti e quella è la soglia cioè i comandamenti sono una soglia di sbarramento così così oggi facciamo una puntata un pochino di raccordo i comandamenti cosa sono i comandamenti i comandamenti nella versione ebraico originale sono le dieci parole si potrebbero anche chiamare il cammino della vita perché Dio lo dice carissimamente nell'antico testamento guarda figlio mio io oggi pongo davanti a te la vita e il bene la morte e il male i comandamenti sono un aiuto per farti comprendere dove sta la strada buona i comandamenti non sono una limitazione della tua libertà ma sono un aiuto all'esercizio sano e santo della tua libertà perché questo mettiamocelo subito bene in testa subito il peccato che è sempre una trasgressione a un comando è attenzione un male oggettivo attenzione non soltanto un male oggettivo ma è un innescatore un produttore oggettivo di male cioè se tu fai un peccato anche se ti sembra che quella cosa sia buona sia divertente sia delettevole tu starai male tu ti farai male e non solo lo farai a te perché purtroppo c'è una dimensione sociale cosiddetta del peccato lo farai anche fuori di te intorno a te in maniera visibile ma era invisibile come scriveva San Giovanni Paolo II anche un peccato di pensiero fa male alla santità della chiesa non nel senso che la intacca perché non può essere intaccata forse parleremo anche di questo ma nel senso che ne intacca la visibilità l'espressività perché tu facendo un peccato di pensiero regredisci nella santità ed essendo un figlio della chiesa la santità della chiesa che in tre dovrebbe risplendere si vedrà di meno anche per un peccato di pensiero allora se tu fai un peccato tu starai male dicevo nell'omeria di domenica scorsa ma chi ci crede adesso stanno tutti quanti preoccupati magari quando si sentirà tra qualche anno questa catechesi speriamo che ci siamo lasciati alle spalle tutte quante le circostanze contingenti veramente noiose anche se bisogna vederci la volontà di Dio che stiamo vivendo ma c'è qualcuno che ci crede veramente che il coronavirus chiamolo per nome è figlio dei peccati degli uomini non stiamo a dire di questo di Tizio Cati cioè come tutte quante le malattie le pandemie d'accordo ci viene mai in mente c'è qualcuno che ci crede a questa cosa qua cioè chi ascolta queste cose ci crede perché la dottrina della chiesa la sana dottrina cattolica insegna che esiste solo un male un male come dire male male un male che Dio non può mai volere in nessun modo sappiamo che Dio è onnipotente ma vuole ogni cosa tranne che il male il male morale perché il male fisico lo tollera e la sua volontà lo sa anche far volgere al bene ma il peccato non lo vuole mai in nessun caso in nessun modo Dio non autorizzerà mai neanche un peccato minimo c'è il famoso aneddoto di Sant'Omaso d'Aquino l'ho raccontato una marea di volte d'accordo in tante omerie una volta Sant'Omaso d'Aquino penso che sappiate che era professore di teologia alla Sorbona a Parigi stava facendo una lezione e uno dei suoi studentelli un po' cretinetti un po' goliardici se ne esce professore professore ah c'è un asino che vola o non posso fare sceneggiare perché stiamo in diretta ma Sant'Omaso si è alzato dalla cattedra si è andato vicino alla finestra e ha guardato fuori poi ha aperto la finestra si è sporto a guardare bene a destra a sinistra sopra in basso eccetera eccetera immaginate tutta quanta la classe no? tutti quanti a ridere ridi 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 santo non si è scomposto per niente torna in cattedra dopo di che dice una frase molto semplice ridete pure quanto volete però ricordate che è più facile che il signore faccia volare un asino piuttosto che dia il permesso al vostro collega di dire una bugia per scherzo una bugia per scherzo c'è molta gente che pensa che non sia peccato nemmeno una bugia di scusa la cosiddetta bugia bianca o scusatoria è peccato anche la bugia giocosa peccato veniale ovviamente no? e allora perché? ah Dio è cattivo Don Leonardo tu fai queste catechesi che immagine di Dio lascia in giro Dio non è così lasciamo io lascio tranquillamente dire non faccio niente di personale ma se San Tommaso d'Aquino che non è l'ultimo deficiente del villaggio questo è un fatto storico questo qui fa una cosa di questo genere ma uno che l'ascolta qual è l'atteggiamento senza ah San Tommaso d'Aquino medioevo immagini di Dio mica Dio è un ragioniere te pare che Dio mostra con le cose serie sta a pensare a bugia di gioco i ragionamenti degli stolti io li chiamo insomma che poi non sanno neanche di esserli io quando senti quella cosa dissi calmi perché un genio come San Tommaso d'Aquino dice questo cosa c'è dietro perché la bugia di scherzo certamente è che produce la fine del mondo ma non essendo un bene ma un male produce il male Dio il male non lo vuole capito quale genitore vorrebbe a un figlio dice vabbè te fai un taglio sull'indice d'accordo pigli un coltello e ti tagli il polpastrello dell'indice ah vabbè ma che gli fa ci metti un po' di disinfettante un cerotto al limite un punto e non c'è niente no ma io dico c'è qualche padre o madre assennata perché sapete oggi non si sa mai che dice ah vabbè se mi fio se taglia il polpastrello fa niente tanto mica gli hanno dato una coltellata alla milza o ai polmoni e si ha fatto un taglietto all'indice ma il taglietto all'indice se è possibile non se lo fa d'accordo diceva quando giochi non ti preoccupare basta che non pina pallonata in faccia però se ti rompi un dito non fa niente certo se ti pina pallonata la faccia che perdi in occhio è una cosa grave ma perché il dito te lo devi rompe insomma perché se le dite le dita so dieci che il nostro signore ce la dava le dieci facce le statute dieci o no quindi il minimo peccato Dio non l'autorizza non l'autorizza e non possiamo cioè se tu vuoi diventare santo non puoi dire ma che ce fa perché sei uno stolto se dici ma che ce fa sei uno stolto perché il fatto che un peccato sia piccolo e quindi il male che produca non sia paragonabile evidentemente a quello di un peccato mortale lo stesso santomaso diceva che mille peccati veniali tanto per dire un numero non fanno un peccato mortale carità ma non si devono fa un conto sono quelli che purtroppo con quella con questa carcassa che ci troviamo dietro con le passioni impazzite con le cose che ci prendono alla sprovvista ti scappa una parola fuori posto ti scappa un atto di impazienza cioè che capite quelle cose che prima che riusciremo a controllarle tutte insomma ce ne vuole perché qui stiamo combattendo con un'umanità che stiamo tutti quanti rovinati ma un conto è la debolezza un conto è l'approvazione a priori di una cosa cattiva cioè chi fa questo qua non diventerà mai santo mai le parolacce ieri San Paolo dice alla volgarità e le trivialità non si devono dire non sono cose da figli di Dio allora dice ma come faccia non di mai una parolaccia a parte il fatto che si fa perché io conosco gente che le parolacce non le dice mai e non solo c'è gente che non le ha mai dette ma c'è anche gente che era il parolaccia dicono a Roma e ha smesso e non le dice più mai più mai non le dice questa cosa capita la bestemmia è la cosa più grave allora è chiaro che se tu non ti metti in testa le parolacce non si dicono non si devono dire perché non sono cose da figli di Dio a Dio non piacciono e quindi non si fanno a prescindere dalla valutazione perché poi che peccato è la parolaccia qui c'è molto da discutere secondo me ne discuteremo a suo tempo ma se tu è chiaro che pur avendo fatto sto proposito fermo se tu per una vita hai avuto una bocca come una cloa che mi si perdoni il termine un po' esempio un po' brutale forse dall'oggi al domani non riuscirai ad andare da mille a zero sicuramente ma se fai un proposito fermo c'hai proprio un calo hai visto il picco dei contagi passi da mille a dieci insomma non è ancora la perfezione ma la mille e nel tempo arriverai a zero è chiaro che se tu cominci a pensare e si pensa pure alle parolacce a dio ti pare che so queste le cose serie della vita cioè cosa c'è dietro dio il male lo proibisce perché mi vuole bene non vuole che io sto male perché tutti quanti i mali che noi soffriamo in questo mondo nessuno escluso la croce di nostro signore Gesù Cristo perché si canta nel cantarello tanto bello che si fa durante le vie crucis in quaresima sono stati i miei peccati Gesù mio perdon pietà perché tutto il male che noi vediamo male fisico sofferenza e morte male psichico depressioni noia solitudine angoscia disperazione divisioni tra di noi mali affettivi distruzione delle famiglie qualunque cosa qualunque cosa qualunque cosa e produce male male non si fa quindi non possiamo entrare in queste in queste dinamiche distruttive non possiamo quindi non c'è nessun cammino di santità battesimale che non sia dove non siamo aperti a comprendere che Dio non può non può in nessun modo volere il male perché ti fa stare male e ripeto tutto il male che noi conosciamo viene sempre e solo da lì ma ci siamo chiesti perché la Madonna sono 200 anni che sta dicendo conversione 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 e poi preghiera e riparazione preghiera e riparazione ma perché 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 allora quando uno capisce questa dinamica fondamentale ha detto quante questioni che hanno fatto cioè la pandemia è un castigo non è un castigo allora chiudiamo questa cosa qui allora noi ci immaginiamo nostro signore vediamo un attimo no perché i termini poi bisogna sempre noi ci immaginiamo nostro signore che sta con le braccia con certe cioè una certa immagine distorta del castigo è quanto mai fuorviante perché non fa capire che cos'è realmente un peccato cioè non è che il peccato c'è la nostra signora che sta così ha deciso che dieci cose non si possono fare dieci comandamenti così perché gli andava tu te la sgredisci e dici vabbè una te la passo due te le passo tre te le passo ah no alla quarta mo te faccio vede io pensiamo che funzioni così cioè io vorrei tanto che le persone imparassero prima di parlare di infervorarsi tante cose ferma te riflette pensi questo pensi questo Dio fa esattamente il contrario allora tutto il male che noi ci troviamo addosso rispetto a quello che dovremmo vivere è una percentuale infinitesimale perché appena tu fai un peccato tu quel male lo inneschi tu soffrirai per quello capito allora non soltanto che Dio non ti manda come dire cioè ma Dio in continuazione per le preghiere della Madonna per le messe celebrate per il sacrificio del figlio di cento che dovresti riceverti in base al male da te prodotto te ne arriva trenta capito il cosiddetto castigo sai che cos'è che ogni tanto il nostro signore dice allora di cento che lui ha prodotto non te lo mando io facciamogli arrivare anziché trenta quaranta perché forse se capisce un po' di più che tutto quello che fa in genera sofferenza forse tornerà tra le mie braccia forse speriamo e altrimenti pazienza io io ci ho pensato anni a queste cose qui eh quindi guardate che veramente è così perché il termine castigo che è biblico tra l'altro si usa nella bibbia significa tipologicamente custom agere cioè ti rendo puro ma quale genitore è contento di rimproverare correggere o dare un castigo non esci ti do l'oscurazione senza fare male chiaramente eh a scopo pedagogico d'accordo in un gesto non un atto di violenza quale genitore è contento di fare questo a un figlio e quando è che lo fa quando ha provato in tutti i modi possibili con l'amore con la dolcezza a far capire una cosa e vede che non è ascoltato e perché lo fa ma per il bene di quella creatura no qui però attenzione Dio col mare non c'ha niente a che fa questo solo dobbiamo mettere bene in testa da Dio il mare non esce capito non esce non esce tutto quanto il male che noi inneschiamo va a come dire ingrossare a potenziare il potere che l'operatore del male per antonomasia che è il diavolo ha su di noi e quello che avviene dietro le quinte dietro le quinte è il diavolo che costantemente vorrebbe farci sto mondo e quell'altro e il braccio del figlio la mano e viene trattenuto dalla potenza di Dio che dice non tutto non tutto non tutto però il diavolo reclama anche quello che è suo perché se noi continuamente stiamo dicendo amen 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 perché il peccatore fin da principio è lui il peccato non è soltanto un produrre male ma è anche anche se tu non sei consapevole tutto quello che ti pare è dire amen al diavolo il peccatore fin da principio è il diavolo colui che si è ribellato stupidamente alla volontà di Dio che era bene per lui è stato lui fare il peccato vuol dire essere imitatori suoi quindi vuol dire dargli gloria cioè hai pensato mai che fare un peccato è come dire viva il diavolo è così eh chi di noi direbbe a occhi aperti una cosa del genere se c'ha un'idea adeguata di chi è il diavolo perché tra l'altro rientra anche nella sana dottrina cattolica l'esistenza degli angeli ribelli avremmo modo di parlare anche questo non sempre non sempre tutti ci credono oggi allora questo è l'itinerario che ci attende allora questo è un po' una proprio una sintesi ad ampio raggio di quello a cui la sana dottrina cattolica tende a forgiare e plasmare o un santo o un milite un soldato di cristo in senso buono quindi capace di lottare veramente contro il male noi abbiamo soltanto un nemico che è il male il male è il peccato perché se uno combatte il peccato ha già combattuto il demonio ha già combattuto il demonio non sei cioè vuoi fare l'esorcista tutti siamo esorcisti i battezzati sono tutti esorcisti perché se tu non pecchi tu al diavolo lo mandi all'inferno capito quanto meno da me aria dentro di me non te ci faccio entrare con l'aiuto evidentemente della grazia di Dio del suo supporto eccetera eccetera senza mettersi a fare le sfide con il diavolo perché attenzione che il diavolo non mi ha mai sfidato di petto perché noi siamo deboli anche con la grazia di Dio e lui se trova se Dio gli permette insomma di dioperare è terribile però lo sbattiamo all'inferno stando lontani dal peccato bene ragazzi siamo giunti al termine di questa puntata se Dio vuole ci vedremo di nuovo martedì prossimo per un nuovo tour dentro le celesti praterie della sana dottrina cattolica Dio vi benedica una santa notte a chi ha seguito la diretta alla prossima mia benedizione Ave Maria